E' stata una partita che non era facile, soprattutto a livello mentale, perché credo sia per noi che per loro non sono partite facili. Siamo stati bravi, gli episodi questa volta ci sono girati, quindi era importante oggi ottenere il risultato. Mentalmente per noi era ancora più importante perché venivamo da un periodo negativo e sono vittorie che fanno bene al morale, soprattutto in vista delle ultime partite di questo girone d'andata che ci devono dare una spinta maggiore per stare un pochino più tranquilli e affrontare bene il girone di ritorno. No, fino adesso abbiamo pensato a questa parita qua che era la nostra vita. Ora ci aspetta un bel viaggio di ritorno, Bertonara Messina. E poi da lunedì penseremo al Catania che è una squadra forte, ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con tanti giocatori che sono da quella parte. Sarà una partita molto difficile, so che i nostri tifosi ci tengono tanto, noi anche altrettanto. E ripeto, dobbiamo pensare al nostro percorso perché per noi è importante, come ho detto prima, continuare questa striscia e finire al meglio questo girone d'andata. Volevo solamente dire una cosa, ci fa piacere a tutta la squadra dedicare questa vittoria soprattutto anche a Mimmo Franco che gli è nata la bambina. Noi siamo una grande famiglia all'interno dello spogliatoio e quindi ci fa piacere dedicare la vittoria a lui che è diventato papà e alla piccolina che è appena arrivata. Grazie.